Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su Peregrine, un gioco indie davvero molto molto promettente, molto interessante. Di che cosa stiamo parlando? Beh, lo andremo a vedere, è una sorta di avventura con componenti puzzle. È un'avventura che si, diciamo, divide in cinque capitoli. Abbiamo appunto la possibilità di controllare per risolvere degli enigmi le creature che abbiamo intorno a noi. Diciamo che il gioco vanta anche delle collaborazioni con degli esperti del settore della fantascienza e ha un'ottima colonna sonora a detta degli sviluppatori. Ma andiamo a vederlo insieme, il gioco supporta il pad ed è con il pad che andremo a giocare. Gioco completamente in italiano. Ci sono delle terre chiamate spartiacque in pratica in questo gioco, dove il nostro protagonista, Abby, andrà. Guidati da un'arcana profezia, cercano una salvezza tra le rovine. Nessuno ha mai avuto successo. Ho messo i caratteri un po' più grandi, anche se in realtà l'impostazione di default era piccolo, perché in video, non caricando in Full HD, magari si potrebbe vedere poco. Eccola qui. La canola di Abby è in secca, lungo le sponde asciutte. Si adopera sui tasti dell'unità di comunicazione. Vedete che questa è una sorta di fantascienza misto a fantasy. Abby è una donna. Ho raggiunto l'altro lato, sembra infestato. Amitagli risponde, sta entrando nello spartiacque. Abby, un enorme cimitero. Sentirai gli ecchi delle loro cadute. Sii prudente. Si annidano dei pericoli nelle rovine. Adesso non ricordo quanto viene questo gioco. Non è messo sulla ventina di euro. Come costo? 19,99 su Steam. Uscito da pochissimo. E' una di quelle classiche avventure che uno magari le guarda un attimino. Prima il video ha appunto questo senso. Per orientare magari un acquisto piuttosto che un... Lasciamolo stare. Ok, iniziamo il nostro cammino. Vedete che questa è una grafica sullo stile di... Ma possiamo dire anche un pochino anche Inside o Rhyme. Tutta quella serie di giochi lì. Ok, andiamo ad interagire. Vedete che qua abbiamo... Allora, c'è questa sorta di pesantezza che è dovuta al software di registrazione. Quindi non fatevi tradire. Ok, premendo il tasto A interagiamo su questa pietra. Allora, il controllo di Elohim. Attivi i totem per energizzare un'area. Puoi prendere il controllo delle creature nell'area del totem. Come vi dicevo è un gioco basato sul controllo delle creature. Prendi il controllo delle creature perché... Per creare un percorso per Abbey. Allora, X. Ok, prendiamo il controllo suo. Il troll può sollevare gli oggetti. Può trasportarli, può spostarli creando un percorso. Vedete che ora... È solo un inizio, ecco insomma. Però, tanto per renderci conto di come è fatto questo gioco. C'è anche una sorta di oggetto raccoglibile lì. Ah no, 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 no. Volevo, chiedo scusa, volevo controllare ancora lui perché il gioco ci dice di metterlo lì. Mettiamolo lì. Niente. Andiamo avanti. Secondo me facciamo una gran brutta fine. Qui, infatti, probabilmente... Vedete? Veniamo uccisi e ripartiamo. Quindi, altro puzzle game. Dobbiamo fare attenzione perché qua... Una volta che andiamo a spostare la roccia... Forse riusciamo a passare anche senza chiedere aiuto. Infatti... Attiviamo il totem. E ora andiamo a controllare... Il nostro socio qua. Che ci sposta la pietra. Vedete se andassimo a spostarla qui? Olè! Perfetto. Con la X torniamo a controllare il nostro personaggio che ormai ha campo libero dalle torrette nemiche. Allora, i guardiani sono limitati alle zone di battaglia. Il tempo si fermerà quando Abba entrerà in una zona di battaglia. Usa il controllo per mettere i nemici in conflitto tra di loro. Allora... X, A, 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 ok. E li mettiamo uno contro l'altro. Per poter andare poi a stenderlo. Ovviamente funziona sempre col tasto X. No, sono morto ancora. Vedete che è una sorta di... Puzzle game perché dobbiamo riuscire a batterlo in tempo. A fare premere il tasto, ecco nel tempo... Gli anziani hanno messo in guardia abbi dai subdoli guardiani. Malgrado i suoi poteri, non sarà semplice controllarli. Trovo che il gioco sia... Non per tutti. Se cercate un'avventura alla Zelda, non è questo il gioco. Allora, a quel punto giocate più a Rime, anche se non si combatte. Cercate magari un gioco puzzle game. Questa può proprio tranquillamente cadere di sotto. Cercate un gioco alla... Non lo so, alla risoluzione di enigmi, insomma. Dove c'è un'ottima colonna sonora. Questo lo ammetto, c'è un'ottima colonna sonora. Ah, vedete che qua adesso stiamo facendo tutto in tempo. Possiamo andare ad attivare... Questo... Che dovrebbe avere altri tipi di poteri. Cioè dovrebbe avere tipo la carica, questo cinghiale qua. Quindi vediamo se... Infatti... Ok. A questo punto molliamo. Torniamo qua. Non dovrebbe darci problemi. Usciamo dalla zona di competenza. E entriamo nella zona di... Un'altra zona di competenza. Qua stiamo uscendo. Ok. Attiviamo... Un altro totem. E possiamo ancora andare a prendere... La rana. Che può spostare piccoli oggetti. Il rospolardo. Attirà le creature nell'area del totem. Premi anche i pulsanti da lontano. È sempre più un puzzle game. Perché noi in questo caso possiamo attirare questo. Metterci qui. Premare A. Posizionarlo lì. Così noi siamo in grado di attirare... Eh... Questa creatura. Che abbiamo attirato dentro con i cristalli. E ora la convinciamo a passare oltre. A sto punto noi possiamo... In mollare tutto. Andare qui. Attivare l'altro totem. E andare a riprenderci il... Eccolo lì. Non ancora. Perché... L'area di influenza del totem. Qua. Inizia a farsi più complicato. Ehm... Non comprende... Quell'affare là. Quindi... Noi stiamo ben nascosti. Tiriamo dentro... La... La nostra... Ehm... No. Io volevo tirare dentro l'altro. Volevo tirare dentro l'anocchio. Io volevo... Ok. Volevo l'anocchio. Perché l'anocchio è in grado di fare una cosa... Beh... Non dovrebbe rompergli le balle. Vedete che noi possiamo andare a prendere quel cristallo lì. Piazzarlo qui. Così che il troll arrivi all'interno dell'area dove noi possiamo andare a utilizzare il secondo totem. La seconda area di influenza. E... Grazie a lui possiamo andare a prendere questo... Masso. E piazzarlo. Esattamente qui. A questo punto molliamo tutto. Restituiamo l'anima al nostro socio. E ce ne andiamo bellamente nella zona nuova del gioco. Bella la risoluzione di enigmi. Ehm... Ci arriviamo. Risolviamo. Ecco. Fondamentalmente la meccanica di gioco è questa. E a me, onestamente, non dispiace proprio per niente. È particolare. È originale. Il sonoro. Adesso io non me lo sto godendo proprio a pieno perché... Perché ho le cuffie e sto registrando. Però... È bello. È bello davvero. Cosa faccio qua? Il vento si infrange contro un albero appassito che si erge... Cosa è una scogliere? Il suo profilo è evidente. Visibile da lontano. Ha guidato abi dall'enclave dove si trova il rifugio della Trevù. Fino a quelle coste. Ok. Piccola zona di racconto. Attiviamo anche questo. Che ci permette di controllare il ranocchio. Ma noi dobbiamo prendere... Allora, con l'anocchio... Potremmo riuscire a prendere... Sì, sì. Beh, è tutto... In questo inizio qui è tutto guidato. Ma no. Ma no. Ma no. E anche l'anocchio ha fatto una gran brutta fine. Va bene. Ripartiamo da qui. Ok, dai. Andiamo. Cerchiamo di risolvere almeno questa. Attiva. Allora, il ranocchio può prendere... A. Puoi prendere questo. Vedete che quando arriviamo in zona... Possiamo andare a scegliere... A dare un'indicazione di quale. Allora, quello attira il troll. Quindi il troll lo facciamo andare lì. Ed entra poi nella portata del... Mierino. Allora. Controlliamo il troll. Che sposta questo. Lo mette qui. Allora, fammi pensare... Dobbiamo... Dobbiamo... A questo punto prendere possesso del ranocchio. Farlo andare... Qui. E fargli rubare. Se ce la fa, quello. Ok. Una volta rubato... Merda. Non cadere. Come abbiamo preso prima per sbaglio. Questo glielo andiamo a mettere... Probabilmente qui. No. Eh, vabbè. Lasciala qui la ranocchio. Che... Ci fa tornare in automatico... Con il controllo ad abim... Per quando usciamo dall'aria. Ma adesso la zona andiamo ad espanderla. Ancora di più. Allora, adesso per sbloccarci la strada... Il ranocchio deve andare... A prendere... Quello. Ma non ho idea di dove lo deve mettere. Ah no, no. Ma sono un... Pir... Pir... Pirlone io. Vado sempre a complicarmi la vita. Eh... Restituiscilielo. Eh... Facciamo una cosa di questo tipo. Sono davvero... Eccessivamente... Diffidente io. Una difficoltà del gioco. Perché... Si passava tranquillamente. Senza dover inventarsi cose strane. Va bene. Ce ne andiamo. Attraverso il ponte. E l'avventura prosegue. Eccoci qua. Ora cambiamo. È una sorta di... Cambio grafica. Ah... L'unità di comunicazione di Abio emette un suono acuto. Per la prima volta dopo giorni sente la voce del padre. Non posso scacciare le paure nella mia mente, Abby. Non preoccuparti per me. I miei poteri sono... Ora sono più forti di quando sono partita. Resisterò al pegno da pagare agli dei. Spero che tu abbia ragione. Coloro che tentarono prima di te non ci riuscirono. Tutto ciò che gli enormi ti ricordavano gli fu rubato nello spartiacque. Gli dei non mostravano alcuna pietà. Il più forte deve provare ad attraversare. Non ci sono alternative. Ho sempre temuto che un giorno ti saresti offerta volontaria. Dopo la partenza di Isaac ti sei concentrata completamente sull'addestramento. I tuoi poteri crescevano rapidamente. Ma Isaac non è il motivo per cui mi sono offerta volontaria. Vedete che inizia a estendersi una storia. È sempre stato duro per te parlare di lui. Gli ho spartiacque e ti hai già costato così tanto. Cerco di non pensarci. Devo continuare a spostare. Abby trattiene una lacrima, rompendo il silenzio. Ripone nello zaino al ricevitore e riprende il viaggio. Vedete, questo è un cambio di grafica come quel gioco che vi avevo portato. Quella della droide. Adesso mi sfugge il nome. È gravissimo perché ci ho giocato un po', un bel po'. Vabbè. Comunque, ora torniamo alla... Eh, sbagliamo, in pieno. Non capisco... Sì, è rallentato il tempo. Non so perché si rallenta il tempo. E devo schivare. Vedete che poi abbiamo visto ambientazione comunque desertica abbastanza strana. E lì sulla parte superiore dello schermo abbiamo questo enorme... Cannone. Non riesco a capire come devo fare perché devo abbattere lui prima. Ok, uno. Ma non capisco proprio... Allora, perché mi fa scegliere. A. Uno o uno. A. Ma poi muoio. No. Non c'è proprio modo. Eh no, sì. Si muore proprio istantaneamente proprio così. Ok. Ok, avrevo sbagliato io. E intanto mi... No. Allora. Attivo questa cosa. Prendo lui. Lo mando addosso a lei. Che era la risoluzione giusta dell'enigma. E non il contrario. Perché se no continuavo a spararmi da lontano. E ora posso ucciderlo. Perfetto, perfetto. Ho risolto anche questo piccolo enigma qui. La struttura lascia Abhi a bocca aperta. Un'immensa fortezza lasciata decadere. Si scorgono le parole. Noi che controlliamo l'oblion, controlliamo il nostro destino. A giudicare queste rovine non sembrerebbe. Abhi si interroga su quali disastri abbiano colpito questa gente. Perché gli dei hanno deciso di punirli? E si prosegue. Carino. Davvero molto carino. Non mi sento assolutamente di parlare male di questo gioco. Perché è veramente fatto bene. Simpatico. Bella ambientazione. Una storia che comunque intriga fin dall'inizio. Ripeto, secondo me non è un gioco così orientato agli appassionati. Ma strezza l'occhio agli appassionati di questo genere. Dove ci sono puzzle enigmi. E un importante ruolo lo interpreta alla storia. all'interno del gioco. Ecco. Questo era il gioco. Peregrine. Fatemi sapere che cosa ne pensate. E noi ci sentiamo al prossimo video game play. Alla prossima. Ciao ciao. Sì. Grazie a tutti.